Una vittoria esaltante secondo me, dall'inizio fino alla fine, non è semplice, non è sempre. Poi avendo un manico, non faccio nomi ma ce l'ho qua in parte, che mi vince due campionati in un anno solo, questo è tutto da dire. È stato un anno meraviglioso, non ho nemmeno parole per giudicare questo campionato. Una squadra di giovani dove si è formato un gruppo importante, dove tutti hanno messo del suo, hanno ascoltato il mister. Il mister ha insegnato tante cose, anche a me ha insegnato tante cose e quindi sono veramente orgoglioso di questa persona e di tutto quello che mi ha dato quest'anno. Spero magari ci sia anche un domani, sono sicuro che avrà molte richieste perché è una persona che merita. Beh io cosa posso dire? Grazie al mio presidente che mi ha voluto, grazie ai protagonisti che sono i ragazzi che hanno permesso a questa società di tornare nella categoria che merita. Non era facile, arrivavamo, la società arrivava da una stagione difficile, quella passata, però da lì abbiamo ricostruito piano piano qualcosa di grande e i protagonisti che sono i giocatori hanno permesso che ciò fosse possibile. Io sono stato utile, ho portato il mio secchiello d'acqua come hanno portato tutti, io, il mio staff e tutti quanti. Quindi sono felice, forza Valcaleppio. Non abbiamo mai pensato di essere più bravi degli altri, neanche quando la classifica diceva più 9, più 10, non contava nulla per noi. Siamo partiti con un grande obiettivo che era quello della salvezza, poi abbiamo provato ad alzare l'asticella, abbiamo sì avuto un momento di flessione, ma era fisiologico, ma è lì che loro hanno fatto la differenza perché ci siamo rimessi a ripassare tutte le cose più piccole, tutti i dettagli per cercare di ripartire, forse anche da un punto, per cercare di ricostruire quella fiducia. Anche il settore giovanile quest'anno ha fatto un lavoro straordinario, hanno vinto in molte categorie, hanno fatto tutti molto bene. Io ho avuto il piacere di allenare gli allievi quest'anno, abbiamo vinto il campionato, quindi per me era la chiusura di un cerchio. Sono venuto qui per le persone e grazie alle persone abbiamo ottenuto questo grande risultato.